gara spegnimento windows 7 versus quindi contro windows vista windows 7 64 bit windows vista 32 bit un terra di hard disk 2,16 gigahertz frequenza del processore li abbiamo invece solo 40 giga di hard disk e 640 megabyte di memoria ram adesso andiamo a vedere quale dei due si andrà a spegnere per primo tra ripeto i due mi metto meglio posiziono me stesso già nel menu start al fine di spegnere entrambi in maniera diciamo così adeguata quindi dovrò essere rapido per spegnere e l'uno e l'altro allora ragazzi partirò ovviamente al mio 3 mi metto già con il dito qua per fare le cose perfette 1 2 3 via fatto entrambi li ho spenti in maniera perfetta ragazzi alla stessa identica chiamiamola velocità vediamo chi sarà tra i due ecco ecco ha vinto per poco lui ha vinto per poco il lenovo b50 30 per qualche istante di secondo però nello spendimento devo dire che il toshiba vecchissimo vetusto è riuscito a spegnersi ragazzi veramente tanta tanta roba bene l'aleandro narratore italiano di youtube italia tutto grazie per aver visto questo video mi raccomando di iscrivervi di commentare ciao a tutti e una buona giornata una buona cittadina